Claudio Borghi, altra tappa del Basta Eurotour, come prosegue? Prosegue benissimo e prosegue sempre meglio perché vedo la differenza con l'inizio, vale a dire la gente sta iniziando a studiare, sta iniziando a capire e anche le domande sono ogni volta di qualità migliore, per me è il segno perfetto che significa che la gente sta cominciando a capire. Poi qua a Bergamo per la prima volta è arrivato anche mio papà e mia mamma, per cui credibile. Ci sono, come al solito, i catastrofisti che dicono che non si può, che è pericoloso, lei che cosa ne pensa? Voi state attenti, state attenti, questo dovete fare molta attenzione, ogni volta che qualcuno vi dice cosa succederà di disastroso una volta che siamo usciti dall'euro, pensateci e controllate se non è già successo, è sempre così. Tutto quello che vi dicono che succederà una volta uscita dall'euro per spaventarvi, in realtà sta già succedendo e è già successo, li potete smentire in maniera molto facile.